Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Ha piovuto troppo poco, in primavera il caldo sta facendo il resto, manca l'acqua. Per ora il grande problema è quello dell'irrigazione, come denunciato nei giorni scorsi dal presidente del consorzio di bonifica Lino Conti, ma il rischio è che la situazione possa ancora peggiorare. Per tale motivo, nella giornata di ieri il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha comunicato che la regione è pronta a dichiarare lo stato di calamità naturale per la siccità. Lo stesso numero uno del Lazio ha spiegato che la situazione rischia di diventare molto critica. Da oggi nuova ondata di caldo, un rialzo importante delle temperature che durerà almeno fino a domenica e potrebbe proseguire anche la prossima settimana. La colonnina di Mercurio salirà anche nel sud pontino, dove le massime sono previste anche intorno ai 35 gradi, mentre sono anche previste le cosiddette notti tropicali, quando la temperatura nelle ore notturne non riesce a scendere sotto i 20 gradi. Più refrigerio nella notte, lungo le coste, più caldo invece all'interno, dove l'AFA la farà da padrona. Al via la rassegna letteraria estiva fuori dalle righe summer, promossa dall'Associazione Culturale Fuori Quadro. Quattro appuntamenti da giugno ad agosto, non semplici presentazioni di libri, ma occasioni di dialogo, riscoperta di luoghi e voci, nonché condivisione di esperienze. Si inizia con un ospite d'eccezione, questa sera alle 21 al circolo nautico Caposere di Formia, l'incontro con Loredana Lipperini, scrittrice e voce storica di Rai Radio 3, che partendo dai suoi ultimi libri Nome non ha, H edizioni e il Senza coda di Salani, si racconterà ai lettori e alle lettrici. Ieri affondi la cerimonia della consegna delle a bandiera blu ai lidi degli stabilimenti dei circa 13 chilometri di litorale. Tra i momenti più attesi della mattinata, la consegna delle prime 10 sedie job appositamente progettate per persone con disabilità e difficoltà deambulatorie. Le speciali attrezzature sono state distribuite in maniera proporzionale lungo l'intera costa, affidate in gestione ai lidi ma utilizzabili da chiunque ne farà richiesta, anche per raggiungere gli arenili liberi. Festa doppia oggi in diocesi di Gaeta per l'arcivescovo. Il 21 giugno del 2016, precisamente sei anni fa, Luigi Vari veniva ordinato vescovo e affidato alla cura della diocesi di Gaeta, ma oggi sua eccellenza festeggia, oltre all'importante anniversario, anche il suo nomastico, essendo San Luigi. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del GR Locale.